Il Campobasso chiude anche per il difensore Cristian Bonacchi, trattativa lunga e per certi versi complessa. Il giocatore era al Fano insieme con l'allenatore Mosconi. Le lungaggini sono state dovute al biennale che Bonacchi aveva con i marchigiani. In questo senso il Campobasso si è impegnato economicamente con il Fano. La società ha comunicato che il ritiro si svolgerà a vinchiaturo dal 24 luglio al 12 agosto. Il neotecnico ha già stilato un programma di amichevoli. Tre partite, sabato 29 luglio contro il Casal Bordino, sabato 5 agosto contro l'Apice, infine Campobasso Ascoli il 9 agosto. Seguirà un altro test ancora da definire. Il Campobasso intende ringraziare il sindaco di vinchiaturo Valente ed il presidente della squadra locale Daniele Renzi per la disponibilità e professionalità mostrate. De Filippis confida di sbloccare al più presto il prestito del portiere Emanuele Esposito. La squadra dovrebbe essere terminata all'80%. Il direttore potrebbe mettere a segno qualche altro innesto nelle prossime ore, ma ormai le attenzioni sono rivolte al ritiro imminente nel quale dovrà scattare pure l'operazione di amalgama del nuovo gruppo Rosso Blu. Novità da casa Vasto Girardi. La società si allarga e grazie alla collaborazione dell'Olympic Isernia rafforza il legame col territorio. Si aprono le porte a tutti i giovani nati tra il 2005 e il 2007. Martedì 25 luglio, Alditella, il primo raduno juniores della SD Polisportiva Vasto Girardi, in collaborazione con l'Olympic Isernia Santa Capito. Riecco in alto Molise l'attaccante Cosimo Salatino dall'FC Matese, un elemento molto duttile per l'attacco, bravo a ricoprire il ruolo di prima punto di esterno a destra. Aveva già giocato a Vasto Girardi nella stagione 21-22, 33 presenze e 6 gol. Il Termoli conferma il centrocampista Mario Corcione, classe 2001, prodotto delle giovanili dell'Avellino. La società giallorossa definisce la pedina confermata una dei protagonisti della scorsa stagione. Ingaggiato il difensore spagnolo Yerisai Hernández, esterno sinistro classe 2004, calciatore dalla struttura fisica prestante alto 1,86. Sarà da subito a disposizione di mister Alessio Martino per il ritiro che scatterà da lunedì in sede allo stadio Cannarsa. L'FC Matese potrebbe apparire in leggero ritardo sulla tabella di marcia. La società si è riservata di far scattare i lavori venerdì 28 o al massimo il 31 e si terrà il ritiro a Piedimonte Matese. Sono ore frenetiche per il Neo DS Marinucci Palermo che dovrà ricostruire quasi da capo una rosa partendo dalle conferme di Riccio, Langellotti e Napoletano.